Continua il lavoro della Virtus Franca Villa in vista della prossima stagione, dopo gli arrivi di Perez e Patierno il reparto avanzato sembra essere al sicuro, tra i pali invece l'arrivo di Miglia garantito gioventù, ma non escluso che possa arrivare un portiere d'esperienza, anche se il giovane ex Nardo ad oggi partirebbe come portiere titolare. Ora il nodo più importante da sciogliere è quello relativo alla difesa, dove l'unica certezza è quella di Alessandro Caporale, si complica sempre di più l'ipotesi di un ritorno in biancazzurro di Riccardo Ida, sul difensore infatti ci sono diversi club di serie B e in ogni caso il suo ingaggio ad oggi risulterebbe essere troppo oneroso. Discorso differente per Ciccio Cosenza, il difensore dell'Alessandria sulle colonne della Gazzetta dello Sport ha fatto chiarezza sul suo futuro. Un altro anno di contratto con Alessandria ha detto ho voglia di giocare in B e partirò per il ritiro, mi fa piacere l'interesse della Virtus Franca Villa, ora però scelgo l'Alessandria. E in fase di definizione invece per l'arrivo di Roberto Pierno, è stata un'esplicita richiesta di Taurino che ha già allenato il calciatore di proprietà De Lecce due stagioni fa a Bitonto e adesso lo vorrebbe con sé a Franca Villa Fontana per dare ancora più spinta sulle fasce biancazzurre.